Sembrerebbe un sorpasso finito male alla base dell'incidente che questa mattina, poco dopo le 7.30, ha causato il capottamento di una Smart ed il coinvolgimento di un'altra auto in viale Canale Albani a Fano. Alla guida della piccola utilitaria, un giovane senegalese che dopo il sorpasso di una Volkswagen ha tentato di rientrare a destra, ma probabilmente un errore di calcolo, l'eccessiva velocità, gli sono stati fatali e il giovane è finito a ruote all'aria, creando un po' di trambusto e qualche problema alla circolazione che in quell'ora e in quel punto di Fano risulta essere particolarmente intensa. Sul posto il personale del 118 che ha trasportato al Santa Croce di Fano il senegalese per accertamenti che nell'incidente, secondo le prime valutazioni, avrebbe riportato solo alcune contusioni ed una squadra dei vigili del fuoco per la bonifica dell'area ed una pattuglia della Polizia Municipale di Fano per i rilievi di legge e regolamentare il traffico.